a k47 joker don't santi cali dead mi puoi prendere il livello 7 su shako ma non c'è dubbio che io giochi shako adesso dopo tutto quello che gli hanno combinato è diventato uno stronzo che cammina shako in questo momento oh my god they picked taric now is lost taric too strong amma mia ci abbiamo contro un main taric nerf taric rito please nerf taric jinx ha capito sa già cosa le aspetta sa già cosa le aspetta e c'è un malzar support malzar che è un morto che cammina un champ praticamente morto che l'hanno ulteriormente nerfato e come dice l'apo nell'ultimo nerf hanno praticamente sparato ad un morto cioè hanno nerfato ulteriormente malzar nonostante fosse già uno stronzo che cammina contro taric penis size eh 21 centimetri long 15 centimetri large canne lupo insegna canne lupo insegna avere il cazzo largo 15 centimetri in pochi ce l'hanno canne lupo si canne lupo uno di quelli vedete adesso io a colpa di questa a causa di questa pressione data mi da taric perdere la top lane so già che è così ah guarda le scudate i minion con molta fatica farmiamo con questo campione no ti prego ernekton già che hai un taric in squadra non abusare del mio culo non abusare del mio delertano per favore sta abusando ragazzi sta abusando qualcuno dica di non abusare sto coso non abusare sta abusando io non ho parole proprio ti piace vincere facile taric in squadra poi abusi hashtag no abusi in chat ragazzi guarda 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 come vuole abusare ecco è arrivata anche l'ambulanza già percepisce quello che mi sta per capitare volibir apprezzo lo sforzo volibir apprezzo molto oh oh mio dio ragazzi ma è il bait supremo è il bait supremo non aveva manco la passiva dove cazzo l'ho usata la passiva sto volibir qua in giungla contro i mob vabbè 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 cal ha comprato il cal ah è l'item dei soldi ha capito tutto a contrario di te Jinx che non è capito un cazzo lui c'ha l'item dei soldi abbiamo 111 spettatori 1 1 1 stavo pensando di partire con un morello sinceramente perché mi dà 100 di ap che è tanta roba cooldown reduction che si non mi serve tantissimo però nel senso già ce l'abbiamo lì quindi lo te ne affanculo va si si annusa annusa senti senti percepisci percepisci eh attenzione vuole tornare no eh quel flash lì vai ammazzalo distruggilo spacca il cocodrillo spacca il cocodrillo vai mamma mia è partito guarda gli fallai addosso Renekton ma non funzionerà accettabile accettabile arrivo bro non so se c'è il tp con Renekton wow wow I'm boosted ah non ho visto azione combinato usa Nami mid full AP non so è divertente da giocare Nami mid full AP death driven flash guarda 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 lì tarik tarik eh vedi è morta perché tarik ha fatto qualcosa secondo me non vedo altra spiegazione Renekton rompe il cazzo perché abusa veramente tanto in top lane come champ proprio però sono un Singed e si vedrà oh 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 la contro la addirittura eh eh non posso andarla a togliere adesso purtroppo aspetta che cicciobello push eh Renekton vicino a mia torre non hai potere mi dispiace attenzione ci crede rischiose perché la sua ulti è molto più utile della mia attualmente la mia serie potrei utilizzarla per rimanere in lane ah vattene affanculo lì dai che pa ma vedete che c'è in più un di merda che Renekton porca puttana davvero brainless della serie a me non piace pensare a me non piace pensare dobbiamo prendere al morello avevo detto mh abiliti pa vabbè prendo subito oggetto ap direi qua così via tanto sono full ap si vedranno i risultati in late game io non ho ancora visto la pubblicità di paolo su youtube non c'è purtroppo quindi quindi mi dispiace un sale madonna cos'è stava rientrando nella ulti di Velcro è Talik ragazzi scappate scappate ce l'hanno fatta sto sacco di merda qua salvini anche te Xiras vattene lì subire mai danno sto affare qua comunque non lo so eh ce l'ho capito che ha sustain però non è giustificato comunque anche io un bel po' di sustain grazie alla mia ulti e a tutti sti affari qua ai dark seal però mi ingaggia ok ottimo trade beccati un po' di veleno eccolo eccolo è incazzato Renekton lo so che sei incazzato ce l'hai con me ce l'hai con me sei frustrato Renekton è partito Renekton cosa succede qualcosa non va qualcosa non va eh qualcosa non andava è andata bene e la prox è una wave rischiosissimo hanno è Karim quindi prende la tangenziale ma arriva addosso diretto che cazzo sto facendo oddio rischio mamma mia mamma mia quell'hit di torre sennò posso partire madonna se parto direttamente con questo no la zonia non mi sembra l'item adatto per Singed non da mana non da movement speed e non ha neanche tanto op no 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 ragazzi mi dispiace falso allarme questo e questo guarda guarda come va full magic resist proprio eh full magic resist siamo eh no smite brutta storia ma non fate il drink infernal se non avete lo smite annaggia a voi vabbè almeno l'han preso morta Jinx sacrificio necessario povero Renekton non sa cosa fare ormai Renekton ormai cioè sei proprio come dire non sei più lo stesso ecco non ti riconosco più ormai i tempi sono cambiati anche per te stai diventando vecchio una volta abusavi e mo non abusi più hai usato tre pozze tutte insieme Renekton e non va di certo in tuo onore tutto ciò usare prima W puoi cercare di gettare Renekton dentro eh hai ragione anche te però pensò fosse un trade meno prelungato pensò che con tutta sta Magic Crisis qua che comunque 30 di Magic Crisis adesso è abbastanza però effettivamente è come se avesse 15 guarda quanto cazzo tolgo troppo forte ping SS bot eh Taric Taric ragazzi oh sì così ok Ekrim stava bot Renekton ormai non lo so non lo riconosco più una volta era più socievole una volta era mio amico non andiamo più d'accordo i tempi sono cambiati da quando ho scoperto che sarebbe diventato cuoio per le scarpe non mi ha più voluto bene Renekton perché non possiamo più essere amici come una volta dai prendiamogli la torre unstoppable ma che cazzo l'orso yogi qua ma alza la cari mie oh sta tornando il mio amico toglie veramente tanto questo veleno qua 2000 eh ah nutrimento per Singed eccoci qua dai il farm è buono 222 abbiamo uno score perfettamente neutro qua c'è la ward è vero di prima quindi la tecnica non funziona Ekrim vuole arrivare in top lane quindi pushare in fretta questa wave tanto Renekton non dispiace devo arrivare a 2000 per prendere quello chiaramente no su lol ma anche due giorni fa e anche tre giorni fa ho giocato a lol anche ieri ho giocato a lol sa che qua qualcuno non segui perfettamente le streaming eh dai Renekton da un po' che non facciamo amicizia vieni dai dai adesso mi dash addosso dai dash vai vai oh salta lì dietro ok 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 ha flashato dai flash ulti arrivederci proprio e la torre se non andò così certo che potevi anche lasciarmela potevi lasciarmi tutto il gold e invece no questo raso yogi qua ha voluto prendersi alla sua parte che gli dico a questi ho provato ad usare doppia voi ghost ma non è servito a molto ma ecco il mid laner si è il mid laner buonasera xene oh finalmente un sub ah vedo un sub in chat mi ricordo ai tempi in cui avevo tanti sub adesso serve qualcos'altro full ap mmm il ludens beh potrebbe essere effettivamente un'idea ludens ah prenderò ludens chissà quanto danno faccio adesso abbiamo un po' mamma mia guardate il one shot sui minion ragazzi osservate percepite guardate qua che meraviglia la satisfaction proprio se non scappi più magari esco i soldi per il sub ma come vuoi te ci sta provando ci sta provando sei già morto velkot hello bitch ma è un po' lì dentro ah non t'ho preso vabbè accettabile accettabile ho preso un assist da bravo singed quale sono oh chiudi un po' il rabinetto il ludens abbiamo detto sì mi farà proprio il ludens c'erate qua il one shot di questi minion il mechai non penso sia proprio il caso perché potrebbero tranquillamente abusare di me eh Renekton ma che cazzo me l'aspettavo una cosa degenerate mi dai una buona ragione per sì eh che che poi il problema principale sub è scendere di casa per ricaricare la carta ma dipende dai punti di vista vabbè top lane Renekton abbiamo già capito come gioca andiamo a fare un salto in mid lane che vedo che c'è tanto farm oh 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 è un taric matto andiamo andiamo a cancellare è mia ok è il mio dc dai lasciatemi in un po' dai lasciatemi qualcosa figli di puttana niente non vi aiuto torno in top lane ciao devo attivare anche il ghost cazzo lo sapevo volevo andare a risparmi sulla benzina che costa tanto 3200 costa eh devo farmi un altro migliaio di gold vabbè poco male col marello poi c'è un sacco di mana di rigenerazione molto buono cioè poi guarda quanto cazzo tolgo con sti 100 di ap cioè tanta roba ah i figli di puttana no una mano sciacco sciacco ragazzi fa schifo adesso non giocatelo fa più schifo di prima e e e già si offende non siamo più amici come prima Renekton cos'è questa storia andiamo back va abbiamo finito la vita vi andiamo uno di questi e prendiamo un 60 di ap cazzo mi manca così poco potrei vendere questo li vendiamo tutti questi per avere quei 200 di mana quindi anche 50 hp quindi anche dell'ap no dai torniamo back tra poco sono troppo belli questi annellini da vedere potrò prendere il mejai ma il mejai me lo buttano al culo quindi non conviene tanto quanto mi serve qua un cazzo con la goccia funziona no non serve a per mio non usa una volta era diverso più che altro perché c'erano la goccia era più utile con gli oggetti che sono adesso non serve più la goccia ti fai la rete news glory e sei già a posto con singed guarda anche 120 di danno con gli attacchi base quanto è forte questo champion chi sta arrivando eh no no mi mancano 80 gold cazzo lasciatemi in pace ma si dai lasciamolo recarlare non mi ha fatto nulla di male non ha rotto tanti coglioni in lane rely liandri sono 100 volte meglio dell'udence su singed si a meno che io non stia facendo singed full ap perché come puoi vedere dal titolo solo q solo trollpicks ed è troppo viabile fare un liandri su singed e quindi l'udence quel rabaddon lui è fiero che può fare quello che gli pare eh puoi anche vederla in questo modo effettivamente io potrei avere la capacità di one shottare qualcuno adesso renekton non lo so sinceramente perché fa abbastanza danno ormai occhio renekton arrivo anch'io allora ah si vediamo chi corre di più bastardo vieni 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 qua vieni ah volevi andare lì lo hai shottato stronzo mamma mia ragazzi è letteralmente sparito quel lecrim oh c'ho anche il blu vai così tanto l'orso yogis fatto double kill bel predict aia pezzo di merda eh morirei col mio veleno scherzavo oh è questo aiuto vabbè mi ha investito il cavallo in effetti non sono proprio tankoso come vorrei eh ma non importa quanta magic crazy stanno tarik lui niente lui niente lui niente dai jinx vai eh perché tarik è af vedi solo perché tarik è af jinx questo jinx attacca prima lui fottitene di tarik abbiamo vinto solo perché tarik è af ragazzi se no avremmo perso il team fight diciamo le cose come stanno avremmo perso c'è niente da fa cosa fa quello ecco ecco qua push guardate guardate qua quanto danno cazzo oh 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 ho shot le torri ho troppo ap davvero guarda qua eh che palle c'è sempre qualcuno se avremmo seguiti altri due attacchi l'avrei preso al culo perché drive in one shot ha anche 6 kill e 6 kill su drive ne sono praticamente quasi il doppio per gli altri oh pietro è un po' di danno a gratis e e e e e niente mi ha tirato le asce nella schiena quel maiale avrei bisogno di qualcosa per refullare cazzo ma ok abbiamo due infernal ma l'hosen c'è proprio quando serve non c'è oh oh calmi calmi arriva singhe della pickery ragazzi vabbè a quello non faccio danno ha troppa magic resist ha veramente troppa magic resist basta oh è partito yogi beer quella che flasha da ulti di taric proprio arrivederci madò il one shot è reale vai go così ragazzi sì sì vabbè ma se vincete già così non è divertente cazzo no no non chiudete quello quello prendilo prendete quel bastardo prendilo io io là dentro non ci vado mi dispiace no no e vabbè ma han già chiuso ma tu tu vuoi far vedere qualcosa e si chiude il minuto 26 io non ho parole la vita è ingiusta è già finita la partita cioè renditevene conto fucking useless support ma non starei mica parlando con taric voglio dire oh vedete 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 il nostro di carry cosa ha fatto niente ok i have s